Amici di tecnologia su misura.net oggi vogliamo presentarvi la panoramica di un software per il riconoscimento vocale che permette sia di dettare ma anche di dare comandi al computer che abbiamo trovato molto interessante e molto ben funzionante questo è Dragon NaturallySpeaking 11 noi abbiamo provato la versione premium da 149 euro scontata attualmente ma è disponibile anche una versione home che ha un prezzo molto più basso di 74 euro scontato ok, riduciamo la finestra vediamo subito che questa è l'icona per avviare il programma noi l'abbiamo già avviato ecco, si va a creare questa barra qui in alto sul vostro desktop questo è il pulsante per accendere e spegnere il microfono in modo che il software potrà ascoltarci in questo momento è spento ma lo attiveremo appena eseguiremo il test per dimostrarvi l'efficacia appunto di questo programma su profilo si andranno a gestire i profili utenti delle persone che lo usano è importante che ogni persona diversa che usa questo programma sullo stesso computer abbia il suo profilo utente proprio perché il programma dovrà calibrare correttamente la nostra voce per essere funzionante al massimo delle sue potenzialità proprio perché ognuno ha una voce leggermente differente che sia per tono, per accento e per velocità di parlata comunque basterà andare qui a gestirci su profili utenti come vedete io ne ho creato solo uno ma andando su nuovo appunto sarà possibile creare altri account in questo caso annulla perché non è un'operazione che vi interessa era solo puramente a scopo dimostrativo per addestrare il programma a riconoscere la nostra voce basterà andare qui sulla voce audio e cliccare su leggi testo per migliorare la precisione una volta cliccato qui sostanzialmente ci verrà proposta una scelta di testi da leggere e intanto che leggeremo il programma ascolterà imparando appunto a riconoscere la nostra voce su modalità andremo a determinare con quale tipo di approccio vogliamo utilizzare questo programma se lo vogliamo utilizzare solo in fase di dettatura basterà cliccare qui se vogliamo invece usarlo solo per comandare il nostro sistema operativo i vari programmi cliccheremo qui poi modalità numerica di compitazione lo dicono le parole stesse naturalmente tenendo spuntata la modalità normale avremo la possibilità di sfruttare tutte le modalità sottostanti sul vocabulario potremo arricchire il database appunto dei vocaboli di questo programma su apprendi a documenti specifici clicchiamoci sopra andiamo su avanti praticamente potremo aggiungere una cartella con una serie di documenti tipo word o di testo ad esempio e lui andrà a scansionarle e catturare tutte le parole che attualmente non conosce oppure cliccando su aggiungi documento sarà la stessa operazione ma su un documento singolo ok qui su aggiungi nuova parola nuova frase invece potremmo aggiungere a noi manualmente appunto una nuova parola con la nostra pronuncia fonetica la prima parola che mi viene in mente potrebbe essere skype ad esempio ok a questo punto qui scriveremo la pronuncia fonetica ad esempio skype ok e andando su aggiungi adesso qui diamo ok dovremo solo premere inizia e pronunciare appunto la parola skype e lui memorizzerà come noi pronunciamo questa parola nel suo database è una funzione molto utile soprattutto per i termini stranieri poiché di default la versione italiana non riconosce benissimo appunto le parole straniere su strumenti invece andremo a a visualizzare i comandi che possiamo impartire ai vari programmi adesso qua sono selezionati i comandi che possiamo impartire a Wordpad come vedete sono sono tanti da imparare qui su comandi globali saranno riassunti tutti mentre poi saranno comandi esclusivamente per il desktop windows per firefox thunderboard word explorer eccetera 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 ci vorrà tempo per imparare a memorizzarli tutti visto che anche noi non siamo riusciti a memorizzarne solo una parte insomma i più importanti diciamo come poi vedremo nella prova ok la prima parte descrittiva possiamo dire che è terminata ora vediamo come si comporta proprio sul campo questo programma attiviamo il microfono e da questo momento in poi non useremo più né mouse né tastiera e lasceremo fare tutto ai comandi vocali ok passa a Google Chrome riduci a icona apri thunderboard apri thunderboard scrivi annulla scrivi oggetto presentazione di dragon naturally speaking a capo un saluto a tutti gli amici di tecnologia su misura.net a capo a capo spero che questa presentazione possa piacervi e risultarvi utile punto esclamativo chiudi non salvare chiudi apri risorse del computer dropbox google drive editing video base per lavoro apri jet supersonico riproduci apri riproduci apri ok questo comando evidentemente non riesce a prenderlo bene chiudi chiudi ferma microfono spegni microfono ok abbiamo spento provvisoriamente vedete che i comandi ci vuole un po' di dimistichezza per impararli a usare tutti correttamente e ogni tanto si crea qualche incertezza apriamo un editor di testo avete visto che appunto è possibile non solo dettare ma anche aprire il client delle mail entrare nelle cartelle risorse del computer eccetera 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 adesso vediamo un po' come possiamo scrivere riattiviamo il microfono apri wordpad ok adesso possiamo scrivere e dettare qualche frase magari anche un po' divertente su chuck norris seleziona socia morris opzioni di correzione annulla vedete in questo caso spegniamo il microfono ma chuck norris non è una parola che viene riconosciuta pertanto in questo caso dovremo andare sul vocabulario aggiungi una nuova parola o frase scriveremo chuck norris qui scriveremo la pronuncia fonetica mettiamo le maiuscole aggiungi chuck norris fine adesso quando dovremo andare a dettare chuck norris dovrebbe aver imparato chuck norris ok seleziona tutto elimina i rubinetti in casa di chuck norris non perdono virgola vincono punto esclamativo a capo grassetto quando chuck norris capisce fischi per fiaschi virgola i fiaschi per non contraddirlo si tramutano in fischi all'istante punto a capo sottolineato prima di andare a dormire l'uomo nero controlla nell'armadio che non ci sia chuck norris punto a capo elimina sottolineato elimina grassetto corsivo se l'orologio di chuck norris si ferma virgola indica l'ora giusta tre volte al giorno punto a capo elimina corsivo allinea a destra seleziona la linea a destra elimina 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 chuck norris riesce ad aprire le scatole di tonno con un grissino allinea allinea a destra spegni microfono ok nell'ultima fase volevo allineare il testo in modo differente ma non mi ricordo benissimo il comando e quindi non l'ha fatto comunque vedete che è possibile comandare non solo la dettatura ma anche scegliere lo stile di scrittura sono dei comandi per cambiare le dimensioni dei caratteri cambiare il colore addirittura e tutto bisognerà studiare bene come funziona il software insomma comunque vedete che sostanzialmente questo programma fa bene il suo lavoro e fa bene quello che promette tutta questione di un po' di pazienza per imparare a utilizzarlo e imparare a configurarlo e naturalmente non andrà mai a sostituire totalmente mouse e tastiera ma può rendere il nostro sistema molto più user friendly molto più intuitivo di com'è attualmente insomma e nel futuro è una tecnologia che può solo migliorare e offrire orizzonti sempre migliori comunque è un programma che lo staff di tecnologiasumisura.net vi consiglia vivamente almeno di provare un saluto a tutti gli amici di tecnologiasumisura.net di tecnologiasumisura.net